Ho collegato il Pix3 al computer con un synth e vado a comandare ad aprire e chiudere il filtro direttamente dalla tastiera, però soltanto sul suono esterno. In più posso poi aggiungere i suoni interni come per esempio un pianoforte piuttosto che un altro strumento. In questo modo intervengo direttamente dalla tastiera per comandare appunto un synth esterno utilizzando esclusivamente una zona. Ne ho quattro e posso intervenire separatamente su tutte e quattro anche con i quattro synth oppure i quattro strumenti differenti utilizzandoli sia come esterni piuttosto che solo come interni oppure entrambi, tutte e due insieme.